Vorrei dire due parole a proposito di questo blocco delle pittate. L'ipotesi è quella di trasmettere con immagini qualche minuscola idea, qualche piccolo sentimento, un risentimento, qualche piccola provocazione. Insomma con quel po' di spregiudicatezza adolescenziale che talvolta investe la mente dei vecchi. Se vi va a seguire questo blocco ne sono felice e vi ringrazio. Andrò avanti giorno per giorno con disperata allegria. Mi servo un po' di questo strumento svariando fra le varie possibilità espressive e cerco di raccontare la vita giorno per giorno, ogni giorno. Questo qua vedi è un gatto che c'è in bocca un uccello. E questa immagine è come ha suggerito queste parole che vorrebbe essere una specie di flash poetico. Ci amammo quel giorno che il gatto salì sul nespolo con l'uccello in bocca e una nula nera di canto portoghese tagliò la luna. Grazie a tutti.